Poi loro conobbero Ferreri attraverso me, con Ferreri si legarono bene, altro furbacchione Ferreri non era un personaggio, era un bravo regista ma era anche produttore ed era capace dei trucchi più infernali. Mi è stato presentato Marco Ferreri, milanese, che aveva studiato per fare il veterinario, Ferreri non pensava di fare il regista ma pensava di fare il produttore, è venuto a Roma, ha conosciuto noi, ha fatto anche qualche tentativo di produzione, ma da punto di vista economico disastroso, allora a un certo punto si trovava in difficoltà e io gli ho suggerito di trasferirsi all'estero per non subire le conseguenze giuridiche legali e abbiamo aperto un ufficio a Madrid. Abbiamo dato a lui la rappresentanza per la Spagna, cosa che non è servita a nulla perché si guardava bene da alcuna parte di questo, viveva di anticipi. Ferreri aveva incontrato un produttore spagnolo, però ha fatto un film che non è mai uscito, allora Ferreri, il secondo film, ha preso la cosa in mano e ha fatto lui il regista, si è avuto nominato il regista e ha fatto il cocesito, che è stato il primo film di Ferreri, che era da un racconto di Ascona. Raffaele Ascona era un redattore di un giornale umoristico, si chiamava Reco Tornizzi, cioè l'anatrocolo, dove pubblicava dei disegni e scriveva dei piccoli pezzetti e da lì col contatto con noi si è trasformato in soggettista e sceneggiatore e si sono intesi benissimo con Ferreri e anche con me. Grazie.